Ciao a tutti, Scotti 2.0, quest'oggi vi presenta la vincitrice del premio World Urban Car 2022 e del premio 4 ruote, novità dell'anno 2022. Stiamo parlando di Toyota Yaris Cross. Proviamola insieme! Toyota Yaris Cross si adatta perfettamente all'uso quotidiano, ma con un lato avventuroso. Il design si presenta con un look elegante, unendo la robustezza e quell'assetto rialzato che riprendono appunto le caratteristiche di un SUV. Toyota Yaris Cross è composta da un motore elettrico e uno termico che erogano complessivamente una potenza di 116 cavalli per 85 kilowatt. Ricordiamo che la motorizzazione è una 1.5 full hybrid. La batteria del motore elettrico è una batteria a ioni di litio che si ricarica in maniera autonoma perché parliamo appunto di una vettura full hybrid sfruttando le frenate e le descellegazioni. Troviamo in tutti gli allestimenti una radio touchscreen compatibile con Apple CarPlay o Android Auto e tutta una serie di comandi al volante, tra cui quelli per gestire le chiamate e i comandi vocali e quelli invece per gestire tutto ciò che riguarda il cruise control adattivo. Il cambio è un cambio automatico a variazione continua e CVT studiato per sfruttare al meglio i vari flussi di energia provenienti dal motore. Ritroviamo in Toyota Yaris Cross i più alti standard di sicurezza. Ciò che troviamo infatti in tutte le vetture Toyota è il cosiddetto Toyota Safety Sense che garantisce un pacchetto sicurezza di serie in tutti gli allestimenti. Sappiamo bene infatti che per Toyota la sicurezza non è un optional ma è un diritto del cliente. Troviamo infatti di serie la telecamera posteriore di parcheggio, un cruise control adattivo, riconoscimento pedoni, riconoscimento ciclisti, i fari abbaglianti automatici, il mantenimento attivo della corsia con sterzata attiva e anche la frenata d'emergenza anticollisione. Siamo a bordo di un allestimento Lounge che ricordiamo essere il terzo allestimento di Toyota Yaris Cross che aggiunge rispetto agli altri allestimenti una ricarica a induzione wireless per lo smartphone, un tetto panoramico con questa tendina parasole, aggiungene oltre i sedili anteriori riscaldabili, il lato guida e il lato passeggero a due temperature, nonché un impianto stereo JBL e cerchi in lega da 18. Ricordiamo i consumi di Toyota Yaris Cross perché arriva a percorrere fino a 27 chilometri con un litro sul ciclo urbano. Per scoprire altre informazioni e curiosità sulle vetture Toyota iscrivetevi al nostro canale. Io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento. Grazie per aver guardato il nostro canale.